Buongiorno a serato, vorrei ringraziare in particolar modo Carlo Mainardi che mi ha voluto qui questa sera e soprattutto tutta l'organizzazione in primis la sua famiglia, quindi Mainardi, poi il gruppo Giovanni Cina Teatro Cina e Maliato Adorà e infine l'associazione Totten per l'organizzazione di questa stagione. È un'iniziativa nuova e validissima perché permette di godere di molti momenti musicali, non solo in musica classica parlavo con Carlo e mi diceva che nella loro stagione hanno anche jazz, hanno anche un gruppo che fa musica classica quindi insomma una buonissima iniziativa, ti invito tutti a seguire e a sostenere il più possibile. E' giunta la primavera, la primavera si forciano i fiori, i fiori attirano l'ape e anche il bombo. E' giunta la primavera. A presto. A presto.